Un'esplosione, forse dovuta ad una fuoriuscita di gas, ha fatto crollare una palazzina di tre piani nelle prime ore del mattino in un quartiere di Bergamo. Sei persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera molto grave. Quattro anziani sono stati portati all'ospedale, un uomo di 50 anni ed una donna di 35 sono stati trasferiti in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni. Un giovane è rimasto illeso. Amici di Unica Channel, buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. E continuiamo con la cronaca. Esponenti dell'estrema destra accusati di aver partecipato a scontri di piazza a Napoli e a numerose aggressioni nei confronti di avversari politici sono stati infatti arrestati proprio questa mattina in un'operazione dei carabinieri del ROS nel capoluogo Campano. Le misure cautelari riguardano in tutto una decina di persone accusate di banda armata, detenzione e porto illegale di armi e di materiale esplosivo, lessioni a pubblico ufficiali e attentati incendiari. Coinvolta Emanuela Florino, candidata alla Camera con Casa Pound Italia, la figlia dell'ex senatore. La crisi della terza banca più grande d'Italia irrompe nella campagna elettorale. Trema il Monte dei Paschi di Siena per lo scandalo delle operazioni con i derivati. Ieri il tracollo in borsa, poi la denuncia di Banca Italia. Documenti tenuti nascosti, più di 270 milioni di euro bruciati. Al centro l'ex presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari. A scoprire la vicenda sarebbe stata la nuova dirigenza della Banca della Toscana. In campo per tutelare le vittime dei governi precedenti. Così ha dichiarato ieri Monti al Forum Economico Internazionale di Davos. Intanto si alza il livello dello scontro elettorale. Bersani infatti bacchetta il professore. Ha creato il problema degli esodati. E passiamo allo sport. La Roma ha vinto la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia. I giallorossi hanno superato l'Inter 2-1 nello stadio olimpico. I gol sono stati realizzati tutti nel primo tempo. Da Florenzi con un potente colpo di testa. Da destro e da palacio. Il ritorno si giocherà il 17 aprile al Meazza di Milano. E chiudiamo con l'estero. La Corea del Nord boccia le sanzioni ONU appena rafforzate dal Consiglio di Sicurezza. E annuncia che i futuri test atomici di razzi avranno per target gli Stati Uniti d'America. E questa era l'ultima notizia. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Auguro a tutti.